Paura e terrore a Dortmund in Germania, poco prima della gara del quarto di finale di Champions League tra il Borussia Dortmund ed il Monaco. Tre esplosioni si sono verificate poco prima delle 20, mentre la squadra tedesca con il proprio Pullman si dirigeva verso lo stadio. Il risultato operito, il difensore 26enne della formazione tedesca, lo spagnolo Marc Batra, che è stato colpito da schegge e di vetro e tagli ad un braccio ed è stato operato in tarda serata al polso. Successivamente, in una conferenza stampa, la polizia tedesca ha messo in evidenza che l'attacco era diretto alla formazione calcistica con esplosivi da prendere seriamente in considerazione. Tutte le ipotesi sono plausibili, anche quelle peggiori. La comunicazione ai tifosi della formazione tedesca è arrivata prima tramite un Twitter e poi con un messaggio scritto all'interno dello stadio poco prima della partita, che sarà recuperata mercoledì sera alle 18.45. Mimmo Siena, Speciale News.